Ma si vede proprio questa carica, questo entusiasmo che è dentro, lo trasmetti. Io volevo soffermarmi anche su questo tuo percorso artistico che ha visto anche le vicinanze con una scrittrice famosa di cui tu vai e adesso ci dirai. Hai raccontato anche la vita di Tognazzi attraverso degli inediti filmati che lo rappresentavano nella sua vita comune di tutti i giorni, attraverso dei video amatoriali. Come avviene questa vicinanza, questo avvicinarsi a questi personaggi? Dagli incontri, un tempo fa a Trieste ero in una rassegna teatrale, ho fatto una serie di concerti anche con l'orchestra e una mia cara amica, Mariangela D'Abraccio, grande attrice, mi ha voluto incontrare presentandomi un progetto, quello con la grande scrittrice Dacia Maraini e infatti sta portando in scena in Italia anche nel prossimo autunno Teresa Lalladra, un romanzo di Dacia Maraini che già fu un film con Monica Vitti negli anni 70 e adesso invece è diventato una sorta di musical, un'opera teatrale musicale, infatti Mariangela fa dei monologhi intervallati da dieci canzoni che ho scritto con Dacia. Questa è una cosa bellissima che ti fa onore, dentro e fuori anche per noi che siamo tuoi fan. Parliamo di questa rappresentazione che è avvenuta raccontando le gesta del grande Charlie Chaplin. Ah, è vero, è vero, sì, sì, con Fabrizio Bosso abbiamo rivisitato, rimusicato alcuni film del 1915 di Charlotte, Charlotte, Vagabondo, Charlotte al teatro, Charlotte alla spiaggia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, Charlotte è stato il più grande attore di tutti i tempi, anche musicista, e quindi è uno stimolo in più, perché in questi brani che sono usciti su un DVD con una casa editrice francese c'è del blues ma c'è anche della musica classica del Novecento, ecco, ecco, ci sono influenze di Satie, di Rachmaninov. E' una bella ragazza poi, mi versava da bere mentre tu, così lontano è, no, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più. Da questo mare. E' una bella ragazza poi, non c'eri più, no, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più, no, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più, no, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più. E' una bella ragazza poi, non c'eri più. È sempre bello poter suonare cose nuove e inventare cose che fino a un minuto prima non avevi minimamente pensato. Anche Disney c'è nel tuo percorso, è vero, sì, sì, sì. Ho cantato anche per la principessa il ranocchio. E' una bella ragazza poi, non c'eri più, no, non c'eri più, no, non c'eri più. Sempre ti libero, prendi il tempo e vai, non ci credevi, vieni qua. E' stupenda la nostra città, è il nostro cibo che è bontà. Benvenuto agli Ugolini. C'è chi usa la magia per donarti un po' di allegria, abituati a vivere con ingonia se vieni agli uomini. C'è chi usa la magia per donarti un po' di allegria, abituati a vivere con ingonia se vieni agli uomini. Sprendi di palazzi per la borghesia e la novità. Tutti quei sogni che ognuno ha, da noi diventano realtà. Rimuovi ogni tanto qualcosa, dimentichi, non sai. Così, per esempio tra le cose belle, qualche tempo fa a Pescara Jazz suonai, abbiamo fatto un concerto con Toots Tileman, che è un grandissimo faro della musica mondiale, soprattutto per il suo amore verso la musica brasiliana e per la sua vicinanza con Giacomo Pastorius. Infatti lui si complimentò con me perché non aveva mai trovato un cantautore nel mondo che suonasse, oltre alla sua musica, anche quella di Giacomo Pastorius e di Kijarret. Giacomo Pastorius 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 Giacomo Pastorius